Il pastore indica la strada giusta a coloro che gli sono affidati e li precede e guida. Diciamolo in maniera diversa. Il pastore indica la strada giusta a coloro che gli sono affidati e guida. Il pastore indica la strada giusta a coloro che gli sono affidati e guida. Il pastore indica la strada giusta a coloro che gli sono affidati e guida. Diciamolo in maniera diversa. Il pastore indica la strada giusta a coloro che gli sono affidati e guida.